Mi avrei scaricato il telefono Allora, quindi, Eden è un manga scritto da Hiroki Endo pubblicato appunto, come dicevo prima, nella rivista Afternoon è considerato uno dei fumetti di fantascienza per eccellenza che ci sono appunto nel mondo e in pratica parla di un virus che ha sterminato il genere umano solo che alcune persone sono immune a questo virus e quindi poi la storia non ve la dico perché dovete leggerla i disegni sono fantastici faccio vedere qualcosa ecco, ci sono pochissime vignette tutti i disegni e penso che potete utilizzare anche questo manga per studiare un po' gli sfondi e le produzioni per questo video è tutto alla prossima cercherò in futuro di fare video dove disegno solo che per ora sono stato impegnato col translogue e con altre cose quindi non ho avuto tempo se il video vi è piaciuto mettete un mi piace se avete domande fatele qui sotto nei commenti su YouTube e al prossimo video dal Giappone ciao ciao